Pietro Panariello, responsabile del sindacato pensionati della CGL. Sono giorni di caos al Bottazzi con anziani in fila per ore e ore per il rinnovo delle esenzioni ticket. Voi avete chiesto un incontro urgente con la direttrice del distretto sanitario. Sì, è già da una settimana che abbiamo chiesto questo incontro per cercare di risolvere questa problematica. Secondo noi bisogna riorganizzare un po' tutta la faccenda perché è ingiusto che gli anziani facciano delle file dalle 5 di mattina per un rinnovo. È vero che adesso c'è il sito Campania in Salute per poter avere l'esenzione tramite lo speed. Ma non tutti gli anziani hanno questo speed e quindi sono costretti a fare delle file sotto il sole o la pioggia, il freddo e non è per niente giusto. Molti di questi si rivolgono a padronati, CAF pagando 10-15 euro e questo non è per niente giusto. Quindi vorremmo che la direzione si riorganizzasse per risolvere la problematica. Ad esempio con una maggiore apertura degli sportelli sappiamo che sono aperti tutte le mattine e di pomeriggio soltanto due volte alla settimana. Quindi un tempo ridotto per far fronte a tutte le richieste. Sì effettivamente per una popolazione di 83.000 abitanti due pomeriggi per risolvere la senzione ticket sono pochissime. Quindi vorremmo che aumentassero i giorni per la senzione. Anzi se si aprisse qualche altro ufficio sul territorio sarebbe ancora meglio. Luca Chiusel, segretario cittadino della CGL. Una situazione dunque inaccettabile, una problematica che si ripropone a distanza di tempo e mai risolta. Difatti è così come ogni anno si prevede in questo tipo di situazione che stiamo vedendo soprattutto le file come diceva il mio caro compagno Pietro. Ma la cosa più significativa è che non c'è un punto di organizzazione da parte dell'ASL. L'ASL forse si ritiene un ente a parte che deve gestire tutta una serie di situazioni a uso e consumo personale senza rendersi conto delle difficoltà che i cittadini hanno sul territorio. L'altro dato è che non c'è una pubblicità reale rispetto a questo tipo di situazione. Con che criteri vengono affrontate le situazioni? Con che criteri vengono affrontate le giornate? le giornate per gli sportelli e per quant'altro. Lo sanno solo loro ma nessuno sa niente. Neanche un manifesto in città per avvisare le persone di andare a loro stabilita affinché non si eviti che si facciano tutte queste file. Anche l'amministrazione comunale da questo punto di vista che deve essere coinvolta sempre che faccia orecchie da mercante. Fino a qualche anno fa addirittura avevamo anche l'accesso per comunicare noi all'ASL di improvviso si è spento anche questo canale. I cittadini sono proprio allo sbando? I cittadini in questo caso sono allo sbando ma non lo si vede. Poi c'è qualche strumentalizzazione in atto senza capire che il problema è reale che se non si affronta in questo contesto l'anno prossimo ci troveremo nelle stesse condizioni. Io dall'amministrazione comunale di dare un segnale di vitalità, di organizzazione. Facessero dei manifesti in cui avvisassero la cittadinanza, facessero dei comunicati stampi seri sulle varie televisioni. Da questo punto di vista ringrazio voi che siete sempre molto disponibili per far sì che noi possiamo esternare il nostro malumore. Ma più che malumore vogliamo cercare di trovare le soluzioni senza strumentalizzazione. Lo abbiamo dimostrato, lo dimostreremo e continueremo a dimostrarlo in tutte le sedi. Noi siamo intenzionati di fare attenzionare all'amministrazione comunale, all'ASL, questo tipo di problema che non può essere tacciato. Prima che succede? Sono intervenuti polizie, carabinieri, non so chi altro deve intervenire per risolvere questo problema. O l'ASL si ottura le orecchie, si ottura le orecchie e fa finta che il problema non è suo, oppure il Comune non evidenzia questo tipo di situazione perché essendo il sindaco il responsabile della sanità sul territorio del greco, questi sono problemi che riguardano anche la sanità.